Ben trovati anche alla pagina dedicata allo sport, doverosa apertura per il pugilato per Marvin De Mollari che è diventato campione italiano dei pesi leggeri. Il pugile lucchese Marvin De Mollari ha conquistato il titolo italiano dei pesi leggeri, che era vacante, battendo ai punti in dieci riprese Daniel il Cobra Spada, esponente della nota famiglia romana. L'incontro ha infiammato il ring del Palas Santoro di Roma, impianto gestito dalle fiamme oro, per un match patrocinato dalla Federbox e organizzato dalla Frascati Box. Un incontro spettacolare, condotto con intensità e coraggio da entrambi i pugili, che non si sono risparmiati aggredendosi fin dal primo gong. Marvin De Mollari, che dava l'assalto al titolo per la seconda volta, si è preparato sotto la guida del maestro Massimo Bosio, all'angolo del campione lucchese anche Francesco Genovesi, Mauro Costalli, Massimo Giuliano e Luca Tognetti. Abbiamo studiato questo match nei minimi dettagli, cercando di non lasciare nessuno spazio, non lasciargli a distanza e non lasciarlo pensare, cercando di fare il nostro ritmo e a tenere la nostra distanza e a portare i nostri colpi. Però devo dire che è un avversario molto valido, molto duro, ha tenuto anche lui un ottimo ritmo e abbiamo fatto divertire il pubblico. La pagina dedicata al calcio iniziamo dalla lucchese che affronta in trasferta il Siena di Guido Pagliuca. A un terzo del cammin di Serie C, capita che la lucchese, ancora scottata dai passi falsi di Ancona, in casa con Alessandria, sia chiamata ad una delle trasferte più ardue che il calendario potesse proporre. È il Siena di Guido Pagliuca, grande ex di giornata, l'avversario che si staglia sulla strada dei rossoneri. Una formazione, quella senese, ambiziosa e piena zeppa di ex, oltre al tecnico Collodel, Picchi e Belloni. Si profila una gara vincente, tosta e complicata che la lucchese, supportata da circa 400 tifosi, potrà far sua solo giocando in modo impeccabile ed evitando le sbavature emerse nelle ultime uscite. Maraia ha fatto molta pretattica, lo dimostrano gli allenamenti a porte chiuse e proporrà uno schieramento, ma anche un atteggiamento dettato dalla prudenza. Ecco la lucchese che calerà al Franchi col 3-5-2. Cucchietti in porta, Bacchini, Tiritiello e Benassà in difesa, Cerniera mediana con Alagna, Mastalli, Franco, Tumbarello e Visconti, Romero e Bianchi in mano in attacco. Il pallone racconta che lo scorso anno, era il 27 marzo, Siene e Lucchese pareggiarono 1-1. Furono i bianconeri a portarsi in vantaggio al terzo con Bianchi che trafisse Coletta sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla destra. Colpita a freddo, la lucchese ci mise un po' a riordinare le idee, ma proprio allo scadere del primo tempo, frui di un calcio di rigore per un fallo di mano di Pezzella. Dal dischetto, Joseph Minala fece 1-1. Nella ripresa, occasioni da ambo le parti, Siene in 10 per espulsione di Crescenzi, ma il risultato non cambiò. La presentazione della giornata del campionato di Serie D, Roy Lepore. Ritorno a casa sul nuovo campo in sintetico del Buon Riposo per il Seravezza Pozzi, domenica pomeriggio contro il Poggi Bonzi per il campionato di Serie D. E così la squadra di Walter Vangioni ha finito di dover emigrare. Dopo la vittoria esterna con il Trestina 3-2, c'è fiducia nell'ambiente, anche se i prossimi avversari sono terzi in classifica, con 17 punti insieme a Framigna e Livorno, reduci dal 5-0 in flitto alla città di Castello. Trasferta a Punzacco per il Tau Calcio, che sarà ancora senza Meucci, che sconta la seconda giornata di squalifica. Padroni di casa che hanno perso sul campo della Pianese 3-0, quindi intendono sfruttare il turno interno ed a maggior ragione il Tau Calcio dovrà prestare la massima attenzione. Per Brega si tratta di un ritorno da ex. Il Ghiviborgo recupera Signorelli, ma non c'è in panchina ancora squalificato Mr. Maccarone, sostituito da Daniele Ficagna. Riceve il Trestina Alcarraia, che ha perso fra le mura amiche con il Seravezza Pozzi, mentre il Ghiviborgo ha pareggiato con il Follonica Garvorrano in trasferta. Il Real Forte Querceta è a Forlì, senza Rosati squalificato per somma di ammunizioni. La squadra di Venturi ha gli stessi punti, 22 degli avversari, quindi si preannuncia una gara non affatto semplice, visto che il Forlì ha perso con il Mezzolara 1-0, mentre i Bianconerazzurri hanno superato la Bagnolese 2-1. Il Forlì non avrà gli squalificati Fusco e Sedioli. Ancora il calcio, il Castelnuovo ha presentato la maglia del Centenario. È stata la sala su Fredini ad ospitare venerdì sera la presentazione della maglia del Centenario della gloriosa US Castelnuovo. Due larghe bande verticali, gialle e blu, come fu 25 anni fa nell'anno della promozione in Serie D. Non casuale, il motto scelto dai dirigenti, un amore lungo un secolo. Ce ne sarebbero di storie da raccontare dagli albori del tempo che fu, fino ai giorni nostri e con periodi davvero fantastici come gli anni della C all'inizio del secolo. A fare da padrone di casa, il sindaco Andrea Tagliasacchi, a conferma della stretta collaborazione instauratasi tra amministrazione comunale e società calcistica, con un unico obiettivo, ritornare a livelli più consoni, al blasone e alla storia del Castelnuovo. Presenti i vertici del sodalizio Garfagnino, a cominciare dal presidente onorario, il mitico Ciona Pedreschi, il DS Fabrizio Giovannini e il presidente Dino Dini. Raggiungere i 100 anni è un traguardo difficile. Il Castelnuovo ce l'ha fatta, quindi il minimo che potevamo fare era festeggiarlo con la maglia che verrà utilizzata ovviamente anche per la nostra prima squadra in campo, ma sarà anche a disposizione per i tifosi simpatizzanti che la vogliono acquistare. Metteremo sulla pagina Facebook le indicazioni per come fare, quindi è un bel evento che insomma si cercherà di continuare a festeggiare per tutta la stagione i 100 anni del Castelnuovo. Oggi, anzi domani, domenica, la realtà è quella del campionato di promozione. Al Nardini la squadra di Andrea Cipolli ospiterà la Ciretese. Il futuro invece, si spera, grazie anche al sostegno di un pool di sponsor, possa diventare più luminoso. Alessandra Bagnoresi e Matilde Motroni della squadra femminile, che milita anch'essa in promozione, baciano la maglia a simboleggiare il grande amore per questi colori. Già Castelnuovo, un amore lungo un secolo. Chiudiamo con due notizie. La prima di basket, Lemura-Lucca, nell'ottava giornata di andata del campionato di Serie A1 di basket femminile, affronta in trasferta il Geas VI San Giovanni. E invece la nazionale italiana di hockey su pista, allenata dal viareggino Alessandro Bertolucci, è stata sconfitta in semifinale 4-1 dall'Argentina ai campionati mondiali in corso proprio in Argentina, affronterà nella finale per il terzo e quarto posto la Francia. È tutto per lo sport, adesso di nuovo la pubblicità, poi la terza e ultima parte del TG Noi. Grazie. 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 Grazie.